Abbiamo perso una partita senza fare qualcosa di propositivo, c'è stata grande determinazione negli ultimi dopo che abbiamo perso il gol ma credo che non possa bastare, ci vuole un pochino più di qualità, secondo me ci vuole un pochino più di coralità e meno paura quando giochi in casa, venivi poi in una prestazione importante a Gubbio, avevi vinto bene 5-1 giocando bene, quindi non vedevo tutte queste difficoltà. È chiaro che oggi c'erano tanti giocatori che, come l'unica scusante che si può additare, si erano allenati poco perché sia Ilari che Bulevardi si sono fatti sulla rifinitura venerdì, poi Petrella ha subito il colpo e dopo 38 minuti è dovuto uscire, Dorazzi ha un problema alla spalla dalla scorsa settimana e quindi tutte queste situazioni hanno condizionato un po' quello che è il contesto. Jefferson non era disponibile, avevamo secondo me poca scelta su quelli che erano gli interpreti e ciò nonostante potevamo fare di più, questo è chiaro. Ci sono giocatori bravi ma in un contesto quando le cose non vanno bene, i giocatori bravi se non hanno grande determinazione dentro fanno fatica e quando giochi per non retrocedere perché noi siamo quartultimi e poi la palla scotta. È stata una partita sporca da parte di tutte e due le squadre, abbiamo giocato il primo tempo ordinati, abbiamo avuto due palle subito, poi abbiamo rischiato poco nel primo tempo, abbiamo trovato il gol all'inizio del secondo tempo e poi è normale che ci sia una reazione importante della squadra avversaria, dimentichiamo che in mezzo davanti hanno qualità, abbiamo difeso bene, ha fatto due buone parate, ci sta, però portiamo a casa una vittoria che ha la sua logica, il suo perché, siamo contenti. Parlando a voi giornalisti di Mantua sapete che abbiamo già dato sotto altri aspetti, però l'atteggiamento è stato quello di fare la solita partita, al primo tempo abbiamo faticato palla sul piano della costruzione del gioco ma è veramente difficile giocare qua.